La seconda giornata del giro di ritorno del campionato di calcio di eccellenza ha riservato un ottimo risultato all'Unitas Sciacca che ha battuto in trasferta con una rete di Seccan il Misilmeri e grazie a questa vittoria in trasferta la squadra saccense ha ripreso slancio in classifica. Chiaramente con un focus particolare sullo Sciacca ma analizzando anche la situazione di tutto il campionato di eccellenza siamo sempre qui con Enzo Di Mino. Per quanto riguarda il vertice da rilevare ormai l'ennesima vittoria della Nissa mentre il Profavara si è aggiudicato lo scontro al vertice con il Mazzara 46 quindi il Profavara è l'unica squadra che rimane anche se a distanza di qualche punto sulla scia della Nissa mentre il Mazzara 46 sembra ormai irrivedibilmente staccato dal vertice della classifica. Vediamo i risultati. Atletico Palermo Oratorio Sanciro e Giorgio 1 a 1, Castellammare Aspra 1 a 1, Folgore Supergiovane Castelbuono 1 a 1, come dicevamo a Misilmeri l'Unitas Sciacca ha battuto il Don Carlo Misilmeri per 1 a 0, 2 a 2 tra Folgatore e Mazzara, 2 a 1 tra Geraci e Accademia Trapani e poi il Profavara che ha battuto in trasferta il Mazzara 46 per 3 a 2 e la Nissa che ha dilagato con il Casteldaccia con il risultato di 5 a 0, Nissa al comando con 49 punti seguita a 34 dal Mazzara 46, a 28 il Supergiovane Castelbuono, a 26 il Castellammare a 24 troviamo la coppia Atletico Palermo e Unitas Sciacca, a 22 Geraci, a 19 il Don Carlo Misilmeri assieme alla Folgore e poi l'Oratorio Sanciro a 18, il Casteldaccia a 17, Accademia Trapani a 16, 11 punti e Folgatore e poi nettamente staccati con 9 punti Mazzara ed Aspra. Allora Enzo Divino partiamo dal vertice della classifica, ormai la Nissa che tra una settimana verrà Sciacca non perde un colpo? Non perde un colpo, ieri diciamo che non è stata fortunata perché la partita Mazzara 46 pro Favara si è risolta al cinquantesimo del secondo tempo, cioè a partita finita, il risultato era sul 2 a 2 e il Mazzara... Questo avrebbe favorito ulteriormente la Nissa? Certo, indubbiamente sarebbe andato a 8 punti e quindi già si poteva considerare chiuso per quello che riguarda la prima posizione del campionato, se non che proprio al cinquantesimo del secondo tempo, calcio d'angolo in favore della Mazzarese, vanno avanti per cercare di sfruttare l'ultima occasione, prende palla al portiere, rinvio e contropiede del Profavara e quindi il risultato a favore del Profavara è che a questo punto rimette di nuovo in gioco la prima posizione in classifica in quanto sono sei punti che al momento distanziano le due formazioni e domenica lo Sciacca potrebbe creare le condizioni per una riapertura clamorosa del campionato della prima posizione che riguarda la promozione al campionato di categoria superiore quindi il Mazzarese o il Mazzara 46 che non si è accontentato del pareggio alla fine perde e comunque le regole del calcio non scritte dicono sempre quando uno sta cercando di vincere la partita possibilmente la può perdere e così l'ha perso il Mazzara 46 Veniamo allo Sciacca, la vittoria l'aspettavamo più nella partita precedente, quella di ripresa del campionato con il Mazzara 46 invece è arrivata una settimana dopo e una vittoria in trasferta Sì, indubbiamente è una vittoria in trasferta, io vorrei ritornare un pochettino sulla classifica la posizione in classifica della parte bassa della stessa praticamente la Folgore non vince dal 5 di ottobre tutta una serie di pareggi e anche sconfitte e quindi una Folgore che piano piano intanto è andata ad occupare la posizione play out e quindi una preoccupazione per la Folgore perché non vedo come possa riuscire a venire fuori da questa condizione mentre per quello che riguarda il Mazzara ha rivoltato più volte la formazione c'è il gruppo squadra con l'ingresso di tantissimi giocatori estracomunitari però non riesce ancora a tirarsi fuori dalla parte bassissima della classifica Veniamo allo Sciacca che ha vinto Veniamo allo Sciacca e lo Sciacca ha vinto naturalmente non ci sono le condizioni per inserirsi nella parte alta della classifica domenica possiamo dire che lo possiamo considerare arbitro del campionato perché se dovesse battere la Nissa la Profavara che ha una partita in casa facile potrebbe addirittura andare a tre punti dalla capolista e quindi tutto ritorna in quello che sono i dubbi per la vittoria finale Da quello che hai appreso, una squadra come quella dell'Unitas Sciacca che ieri non aveva il proprio allenatore in banchiera che ricordiamo è squalificato assieme al Presidente cosa ha presentato di diverso? Cioè perché è riuscito a vincere lì e quindi in che maniera ha giocato rispetto a una settimana prima quando invece la vittoria non è arrivata? Intanto dobbiamo dire che quando un allenatore è squalificato lo Sciacca riesce a vincere si era verificato anche in precedenza quando c'era buon fatto e mi pare c'è pure un'altra squalifica che ha favorito lo Sciacca quindi l'ha fatto vincere quindi si vede che l'allenatore in seconda porta fortuna in questo caso è stato Coco a dirigere la squadra dall'interno del centro campo è stata una partita, chiamiamola roccambolesca perché lo Sciacca ha subito l'azione della squadra delle Mesilmeri che lotta nella parte medio-bassa della classifica e ci sono state delle belle parate del portiere dello Sciacca poi intorno al settantesimo settantatresimo settantacinque settantacinque in un classico dei contropiedi lo Sciacca riesce a segnare e quindi a portare in porto una vittoria che non può avere grossissimi sussulti in classifica però che fa morale una vittoria che fa affrontare la partita di domenica prossima contro la Nissa e mi auguro che le condizioni climatiche ne possano favorire la presenza di un grosso pubblico e quindi assistere ad una partita che sicuramente onorerà quelle che sono le ambizioni delle due squadre di vittoria finale della Nissa e di una posizione di prestigio dell'Unitas Sciacca Solo un flash siamo in chiusura e diciamo da tecnico lo Sciacca come dovrebbe impostare questa partita è la partita dell'anno diciamo? Sì è una partita dell'anno lo Sciacca non si deve assolutamente snaturare lo Sciacca deve fare la propria partita e naturalmente l'avversario di tutto rispetto l'avversario ha dimostrato di valere la posizione in classifica che sta occupando e quindi una partita delicata una partita prestigiosa mi auguro e ci auguriamo che tutto possa procedere nel migliore dei modi e che alla fine lo Sciacca possa rimettere in corsa la profavara per la vittoria finale Grazie Enzo Di Mino l'appuntamento è tra una settimana per commentare proprio questa partita Unitas Sciacca-Nissa e tutto il campionato di eccellenza Grazie a tutti